Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono, poi le passioni concepiscono e generano il peccato e il peccato una volta commesso produce la morte. Non ingannatevi fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Beato l'uomo a cui insegni la tua legge, Signore. Dal Salmo 93 Beato l'uomo che tu gastighi, Signore, e a cui insegni la tua legge per dargli riposo nei giorni di sventura. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Quando dicevo, il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato. Vieni in me. Signore, ho bisogno di averti presente per non dimenticarti, poiché tu sai con quanta frequenza io ti abbandono. Vieni in me, Signore, perché sono debole. Ho bisogno del tuo aiuto e della tua forza per non cadere così spesso. Vieni in me, Signore, perché tu sei la mia vita e senza di te si indeburisce il mio fervore. Vieni in me, Signore, perché tu sei la mia luce e senza di te rimango nelle tenebre. Vieni in me, Signore, fammi udire la tua voce affinché possa seguirla. Vieni in me, Signore, e mostrami la tua volontà. Vieni in me, Signore, perché sono debole. Ho bisogno del tuo aiuto e della tua forza per non cadere così spesso. Vieni in me nel tuo amore e un giorno possa cantare le tue lodi per l'eternità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo insieme il rosario Meditando i misteri della gioia. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione. L'angelo Gabriele entrando da lei disse Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Dobbiamo essere sempre pronti al Santo Rosario. Tutti i giorni, tre volte al giorno. Per chi è che non c'ha da fare niente, che sta a casa come me. Però niente è una parola grossa, c'è sempre da fare dentro casa. C'è sempre da fare. Le faccende di casa, i servizi, i genici. E da aiutare i propri genitori terreni. Per chi è che ce l'ha, chi è che non ce l'ha, se deve aiutare da solo o da sola. Comunque se deve pulire la casa. Quando o durante i servizi dovremmo recitare il Santo Rosario. Oppure quando non c'è più da fare niente perché abbiamo fatto tutto. Allora impugniamo la Corona del Rosario e recitiamo il Santo Rosario col cuore. Così ci proteggiamo e ci liberiamo da ogni male. Come sto facendo io adesso. Anche se oggi l'ho recitato due volte. Adesso questa è la terza volta. In modo che sono protetto completamente. Contro i spiriti maligni. Che ci attanagliano e ci distruggono. Ci vogliono disperati. Ma noi dobbiamo lottare contro questi spiriti maligni. E con cosa? Con il Rosario. L'unica soluzione disponibile adesso. Perché i sacramenti non sono più disponibili. E la Madonnina ci aveva avvertito che non ci sarebbe stata l'Eucaristia. Ci ha avvertito. Nei messaggi passati. La Madonnina ci ha detto rimarrete senza Eucaristia. E infatti ecco qua. Questo è il tempo. Non si può più piacere Gesù Eucaristico. È una cosa gravissima. È più grave di quello che pensiamo noi. Quindi l'unica arma disponibile attualmente adesso è il Santo Rosario per proteggerci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come un cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave o Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli, ame Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero Nel secondo mistero della gioia Contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria Il bambino sussultò nel suo grembo Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Comincielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimette a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso, nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso, nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli, ame Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria, Regina della Pace, prega per noi Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù Mentre si trovarono in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto Diede alla luce il suo figlio primogenito Lo avvolsi in fascia e lo posi in una mangiatoia Perché per loro non c'era posto nell'albego Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria, piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli, ame. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Musè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo Come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli, ame Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco, dall'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria, regina della pace, prega per noi Nel quinto ed ultimo mistero della gioia Si contempla Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio Al vederlo, i suoi genitori restarono stupiti E sua madre gli disse Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo Ed egli rispose loro Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come in cielo, così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo i nostri debitori E non ci indura in tentazione, ma liberci dal male Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, com'era. Ancora, ancora. Altri Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, Iesuli, figli di Eva. A te susperiamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, evocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce vergine, Maria. Adesso, Padre nostro, Navea Maria, un gloria al Padre, per tutte le intenzioni della Madonnina, affinché ci protegga e ci liberi da questo virus. Padre nostro, che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Comincialo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del Cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata prega per noi Madre degna d'amore prega per noi Madre Ammirabile prega per noi Madre del Buon Consiglio prega per noi Madre del Creatore prega per noi Madre del Salvatore prega per noi Madre di Misericordia prega per noi Vergine Prudentissima prega per noi Vergine degna di Onore prega per noi Vergine degna di Lode prega per noi Vergine Potente prega per noi Vergine Clemente prega per noi Vergine Fedele prega per noi Specchio della Santità Divina prega per noi Sede della Sapienza prega per noi Causa della Nostra Letizia prega per noi Tempio dello Spirito Santo prega per noi Tabernacolo dell'Eterna Gloria prega per noi Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi Rosa Mistica prega per noi Torre di Davide prega per noi Torre d'Avorio prega per noi Casa d'Oro prega per noi Arca dell'Aleanza prega per noi Porta del Cielo prega per noi Stella del Mattino prega per noi Salute degli Infermi prega per noi Rifugio dei Peccatori prega per noi Consolatrice degli Afflitti prega per noi Aiuto dei Cristiani prega per noi Regina degli Angeli prega per noi Regina dei Patriarchi prega per noi Regina dei Profeti prega per noi Regina degli Apostoli prega per noi Regina dei Martiri prega per noi Regina dei Veri Cristiani prega per noi Regina delle Vergini prega per noi Regina di tutti i Santi prega per noi Regina concepita senza peccato originale prega per noi Regina Assunta in Cielo prega per noi Regina del Rosario prega per noi Regina della Famiglia prega per noi Regina della Pace prega per noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio e saremo degni delle promesse di Cristo Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano E guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore, Amen Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, Amen San Michele Arcangelo, difendici nella lotta Sì il nostro sostegno contro la malvagità, le inside del diavolo Noi supplichiamo che Dio glielo comandi E tu capo dell'esercito celeste, con la potenza divina Caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni Che si aggirano nel mondo per la perdizione delle anime, Amen A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribulazione Ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio Insieme a quello della tua Santissima Sposa Per quel sacro vincolo di carità che ti strinza l'Immacolata Vergine La mia madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù Riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno La cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue E col tuo potere aiuto soccorre i nostri bisogni Proteggi, o provvido custode della divina famiglia L'eletta prole di Gesù Cristo Allontana da noi, o Padre amatissimo Una peste di errori e di vizi che ammorba il mondo Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre O nostro fortissimo protettore E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù Così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità E copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio Affinché col tuo esempio e col tuo soccorso Possiamo virtuosamente vivere e pienamente morire E conseguire l'eterna beatitudine in cielo Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Beato l'uomo che confida nel Signore Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvaci Non resta nella via dei peccatori E non siede in compagnia degli arroganti Ma nella legge del Signore trova la sua gioia La sua legge medita giorno e notte È come albero piantato lungo corsi d'acqua Che dà frutto a suo tempo Le sue foglie non appassiscono E tutto quello che fa riesce bene Non così, non così i malvagi Ma come pula che il vento disperde Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti Mentre la via dei malvagi va in rovina Quindi rimaniamo vicini a Gesù Confidiamo in Lui Sempre, ora sempre Confidiamo in Gesù Perché è la nostra unica salvezza Non c'è speranza all'infuori di Gesù Quindi affidiamoci a Gesù Confidiamo in Lui E chiediamo la grazia per intercessione di Mamma Maria Di allontanare questo virus da noi Da tutti noi Allontana Gesù questo virus da noi Allontana questo virus Gesù Te lo chiedo per intercessione di Mamma Maria Liberaci Gesù Guariscici Proteggici Aumenta a noi la fede Donaci la fede Gesù Donaci la perseveranza in Te Grazie Gesù Lode e gloria a Te Amen E la benedizione di Gesù Per intercessione di Mamma Maria e San Michele Arcangelo Scenda su di me E su tutti coloro che mi state a guardare Anche su di Te Te, proprio Te Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Un bacio a Gesù Gesù sii nella mia mente Gesù sii nelle mie labbra Gesù sii nel mio cuore Amen